Grande giornata, è la prima volta che facciamo un'esperienza di questo genere, ci ha fatto veramente piacere ospitare le auto d'epoca e questo giro del gusto che diciamo in collaborazione con l'Accademia dello Stoccafisso, quindi la festa di San Giovanni, sono venuti a preparare lo Stoccafisso, le frittelle e quant'altro, una cosa un po' nuova e queste bellissime macchine che ci sono passate a trovare e il Cacini è veramente contento, contento perché viene conosciuto, contento perché si ritrova al centro dell'attenzione con tutta questa gente nuova, molti non sono di qua, che arrivano da fuori Liguria e possono toccare con mano e vedere con mano e vedere direttamente quali sono i nostri prodotti e cosa fa l'azienda agricola Alcacin. Siamo qui a Alcacin di Arzenodolenia, abbiamo avuto la fortuna di essere ospitati per questa manifestazione, la manifestazione era una manifestazione di tre giorni, abbiamo cominciato venerdì facendo il ride e partendo da Calatacuneo, per poi fare sabato con Ceriana, Baiardo degustando i vari prodotti tipici del nostro territorio e adesso oggi siamo qui a D'Arzeno dalla Cacin che in sostanza l'Accademia dello Stoccafisso fa degustare ai nostri partecipanti lo Stoccafisso, il famoso Stoccafisso, dopodiché ci saranno delle frittelle di mele eccetera. La giornata è un po' nuvolosa però ha tenuto per tre giorni e siamo molto soddisfatti. I partecipanti arrivano sia dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Piemonte, abbiamo fatto un pronostico delle autovetture che sono state in banchina, penso che abbiamo superato il centinaio perché abbiamo fatto la rotazione e abbiamo dato il libero accesso alla banchina a tutte le autostoriche del compressorio della provincia. Direi che anche questa edizione, se possiamo dire quasi conclusa, sia un ottimo risultato per noi e per la degustazione dei nostri prodotti. La manifestazione è stata anche sponsorizzata dalla regione Liguria che voglio ringraziare e voglio ringraziare tutte quelle persone che come ogni anno ci sostengono e che per noi è molto importante. In occasione di questa bellissima occasione delle macchine storiche quest'anno, qua alla Cascina di Cascine dove noi siamo stati invitati a fare come Accademia dello Stoccafisso lo Stoccafisso. Hanno voluto e chiesto questa nostra specialità della nostra ricetta e siamo venuti qua al Cascina a farla. Questa mattina l'abbiamo fatta, a mezzogiorno serviremo, prima serviremo delle frittelle col baccalà, intanto diciamoci così di antipasto, poi daremo lo Stoccafisso e in ultimo delle frittelle dolce fatte dal nostro nuovo socio che è appunto il professore Guasco Bruno che è entrato a far parte anche lui dell'Accademia. Lo Stoccafisso è un pesce che ci porta bagnato e lo prepariamo con i prodotti locali, i prodotti locali si intende con un olio favoloso e quindi sono tutti prodotti nostri che non solo qua a Imperia o addirittura vicino alle province limiti o quando usciamo fuori, ma quando andiamo un po' in tutta Italia a fare questa nostra ricetta portiamo sempre i nostri prodotti dalla nostra provincia per valorizzarle ancora di più i nostri prodotti.